Contiene misure per complessivi 1,3 miliardi di euro il nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri contro il caro bollette. Il provvedimento proroga per il quarto trimestre 2023 la riduzione delle bollette dell'energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati. Nel dettaglio si tratta di quelli con Isee fino a 15 mila euro o fino a 30 mila euro nel caso di quattro figli o con componenti in condizioni di salute gravi. L'obiettivo di riduzione della spesa è pari al 30% sull'energia elettrica e del 15% sul gas. Inoltre è stata confermata anche per il quarto trimestre dell'anno la riduzione dell'IVA al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Prorogati anche l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l'aliquota IVA ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano. Viene rifinanziata con ulteriori 100 milioni per il 2023 la carta dedicata a te per i nuclei familiari con almeno tre componenti e Isee fino a 15 mila euro e potrà essere utilizzata anche per l'acquisto di carburante. In materia fiscale i contribuenti potranno regolarizzare con il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023 le mancate certificazioni relative al periodo 1 gennaio 2022 30 giugno 2023.